Meghan Markle provata assume una tata per Archie, ma solo a certe condizioni. Meghan Markle e Harry sono crollati e hanno deciso di assumere una babysitter professionista per il figlio. Ma dovrà sottostare a rigide regole sulla privacy. Meghan Markle e Harry sono crollati e hanno deciso di assumere una tata per il figlio Archie. Durante la gravidanza, i duchi del Sussex avevano affermato di non volere alcun aiuto esterno nelle cure del bebè. Criticando implicitamente la scelta di Kate Middleton e William che fin dall'arrivo del primo genito George si sono affidati a una bambinaia. Meghan e Harry contavano su Doria Ragland, mamma della duchessa. Che però solo dopo due settimane dalla nascita del nipotino, ha deciso di tornarsene a casa a Los Angeles. Risultato? Lady Markle si è trovata da sola alle prese col neonato. Mentre suo marito attendeva agli impegni di corte, viaggiando molto in Europa. E' perfino venuto a Roma per una partita di polo. La situazione si è fatta piuttosto complicata, come si è visto durante il trooping T-Color. La tensione corre sul filo tra Harry e Meghan, al punto che il principe ha provato a consolarsi tra le braccia di Rita ora. Per non esplodere, i duchi finalmente si sono decisi a prendere una babysitter. Ma a condizioni ben precise, secondo quanto rivelato dall'esperta di corte, Katie Nicole. Pare infatti che Meghan abbia preteso che la collaboratrice firmasse un contratto, in cui si impegna a mantenere la più stretta riservatezza. Lady Markle e marito, sono infatti ossessionati dal preservare la loro privacy. E' ancor più quella del loro bambino, che vogliono far crescere nel modo più normale possibile. Per questo hanno anche rifiutato di dargli un titolo nobiliare. Non solo, la tata sarà molto limitata nella cubi di reagi. Infatti, mamma Meghan supervisionerà ogni sua mossa. Victoria Howard, un'altra esperta di palazzo, ha rivelato all'Express che quasi certamente i neogenitori opteranno per una tata non convenzionale, che sappia stimolare la creatività del piccolo. Probabilmente si lasceranno consigliare da qualche amico di Hollywood. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.